Nel momento in cui non c'è un vero paradigma social mediatico da parte del produttore e anche della piattaforma che lo presenta si creano poi situazioni di questo genere, nel senso che il pubblico è pronto per recepire, assorbire, perché lo chiede un prodotto di questo genere, però dall'altra parte non c'è ancora la cultura per poterlo distribuire in modo coerente e pertinente. È assolutamente vero, è evidente che andiamo verso uno scenario mediatico in cui il contenuto è legato alla piattaforma che lo presenta, non possiamo più concepire dei contenuti universali salvo casi eccezionali e comunque ad altissimo budget, dobbiamo sempre variarli in funzione degli spazi su cui vengono distribuiti, quindi è evidente che se i grandi editori televisivi tradizionali non offrono spazi adeguati anche per un tipo di trasmissione, di prodotto televisivo fortemente social mediatico o fortemente interattivo, fortemente legato alle matrici del sentire internetiano, sarà difficile, improbabile, casi rari, eccezioni che confermono la regola, ottenere poi degli indici soddisfacenti. In effetti credo che la politica industriale più logica sia invece di poter dotare i grandi editori di A, una regia generale che vada a poi concepire e sviluppare le intere linee di prodotto dedicate ai nuovi media e di mettere in piedi delle piattaforme che siano tra l'altro italiane e dunque editorialmente controllabili e commercialmente esplodibili attraverso soggetti italiani, piattaforme che consentano poi di dare a Cesare quel che è di Cesare, quindi il prodotto social tv a chi ha le applicazioni, i device e la mentalità, lo stile di vita multitasking per avere poi una forte reazione sulla social tv. E il prodotto televisivo classico a chi continua invece per questioni generazionali a preferire il prodotto televisivo classico. Del resto tu hai una società che si occupa proprio di portare sul mercato talenti nuovi. Mi parlavi di talenti youtuber, twister, con le quali tu lavori e cerchi di far emergere con un'attività di consulenza, di in qualche modo ridefinizione del loro essere attori, nel senso più lato, di questo sistema. Greater Full Media si è nata nel 2012 e effettivamente si propone di essere il primo ponte stabile italiano tra la creatività su web e la filiera mediatica tradizionale intesa tanto come operatori editoriali quanto come advertiser e piattaforme. Noi siamo nati su una impostazione fortemente legata a un top management con grandi esperienze televisive, quindi riversiamo dentro al mercato dei new media italiani un know-how che nasce dalla tv. Non ignoriamo la tv e non siamo in alcun modo mai per nostra natura antagonistici rispetto alla tv, tutt'altro. Poi dopo di che, tra l'altro, nel management di Greater Full Media c'è l'ex presidente di RaiNet, Gian Paolo Rossi, è stato dal 2004 al 2012 a capo del braccio della Rai dedicato a Internet, Francesco Sciò, la famiglia di Francesco possiede il service per eccellenza in termini di riprese televisive in Italia, e Euroscena, Filippo Morio Baldini che è stato country manager di Discover Italia e adesso editore di ben due canali su Sky dedicati al civilismo e ai matrimoni. Quindi come sottolineavo, un forte know-how televisivo, la consapevolezza che la tv non va a morire, è impossibile, non tramonta, gran parte della popolazione italiana continuerà comunque per decenni a preferire un tipo di funzione passiva e al tempo stesso la parte più digitale, più nativa digitale del pubblico nazionale non per nulla attende un'esplosione delle smart tv e un'infrastruttura in termini di raga banda che consenta di guardare e consumare video anche attraverso schermi da 43 pollici e possibilmente in HD, perché le smart tv, la televisione, lo schermo televisivo è comunque un totemount. Quindi come sottolineavo prima, un tipo di expertise fortemente televisivo, perché consideriamo e siamo certi che la tv non va a morire, anzi resterà un importante, determinante schermo all'interno della dieta alimentare mediatica degli italiani per decenni, poi con una tipologia di rapporto che può considerarla a volte anche il secondo e il terzo schermo in caso di un consumo fortemente a un demanda in movimento, multitasking, di una competizione che va a crescere da parte dei device mobile e da parte di tutto quello che attiene al consumo via PC, ma resta lì dove è, cioè resta comunque il cuore del sistema. La differenza è che il cuore del sistema prima aveva una barriera all'ingresso fortissima, oggi ha delle barriere completamente differenti che vanno capite e comprese per poter essere superate. Quello che facciamo con Graterful è fornire quel sostegno ai nuovi creativi, ai nuovi producer che si sono fatti le ossa e si fanno le ossa giorno dopo giorno su internet, sfornando video con i loro mezzi e cercando di monetizzare con i loro mezzi, cerchiamo di fornire quel sostegno, quel supporto, quell'alleanza tale per poter emergere, fare il salto di qualità e arrivare a inserirsi in un sistema che ha necessità di nuovi interpreti, di nuovi attori, di nuovi protagonisti, non li prende in maniera automatica, non li sussume perché non li coopta, perché a oggi ancora non ha costruito un meccanismo che va a rimpiazzare quello precedente e quindi poiché mancano degli automatismi servono dei soggetti che siano in grado questi automatismi di costruirli, di aiutarli e di essere a loro volta anche parte del meccanismo. Questo è in parte sicuramente la mission di Graterful. La seconda attività che portiamo avanti accanto a quella di ottimizzazione editoriale, di sviluppo commerciale delle properties che nascono da internet legati ai nuovi creativi è invece al contrario, sull'altra sponda del fiume, dall'altra parte del ponte, affiancare e dare consulenza strategica ai broadcaster tradizionali, ai media player che hanno fortemente necessità di convertire una parte del loro business verso internet, perché se il pubblico, inteso come grande ordine di grandezza, continua a essere quello televisivo classico, il pubblico commerciale più appetito è invece ormai indirizzato verso differenti tipologie che poi semplifichiamo in maniera estrema con internet. Allora noi andiamo a fare un forte lavoro di consulenza e affiancamento rispetto a questi broadcaster, nonché attendere, ci attendiamo anche di poter non solo offrire soluzioni e servizi, al tempo stesso anche di essere coproduttori per la realizzazione di format innovativi. Proprio in queste settimane, grazie a un agreement con Ducu, società leader nel campo della realizzazione di applicazioni per mobile negli Stati Uniti, stiamo per lanciare sul mercato italiano PIC1, che in termini social tv sarà la prima piattaforma in grado di dare esposti in tempo reale agli inserzionisti e ai broadcaster o altri soggetti che intendano utilizzarla, che forniscano una profilazione dell'utente che va a rispondere molti piattaforma alle domande. Ok, al di là dello slogan, tento di fare un esempio più masticabile, significa che mentre una trasmissione tradizionale tende a lanciare un sondaggio magari via Twitter, ottiene 10.000 tweet ma poi non sa esattamente chi ha inviato questi 10.000 tweet. D'accordo, sì, potrebbe andarsene a spulciare uno per uno ma è umanamente impossibile. Di contro, i meccanismi delle applicazioni di secondo schermo come sono la Zbox inglese, gli Shazam sempre inglesi, gli Intu Now, i Get Blue e i Vigol americani, che vantaggio hanno? Che poiché si fondano su una base utente che ha già installato l'applicazione e ha dato tutta una serie di consensi all'utilizzo dei dati personali, permettono una profilazione dell'interazione, permettono una profilazione di chi ha interagito attraverso il secondo schermo con il contenuto, che sia una trasmissione televisiva o un video su YouTube e questo consente dunque di dare delle risposte forti al pubblico, al target degli inserzionisti, delle risposte che poi possono andare a orientare in un senso o nell'altro eventuali successive campagne pubblicitarie o persino campagne in corso. Questa è la grande differenza. La seconda differenza è poterlo fare non su singole piattaforme, ma sull'intero spettro delle piattaforme possibili, dunque in televisione, tanto quanto su Twitter e Facebook, tanto quanto su mobile. Sono fortemente convinto che il futuro della social tv non possa oggi in Italia o comunque nel mondo prescindere dalle applicazioni per mobile, anzi credo che sia il vero driver della social tv ed è un driver che ancora in Italia conosciamo poco perché abbiamo fondato la nostra esperienza di social tv su Facebook e su Twitter e che consentirà di moltiplicare in maniera davvero importante il numero di abitué dei meccanismi, dei giochi e delle risposte legate a tutto quello che è il grande mondo social televisivo.